Eccoci, oggi vediamo assieme questa puntatrice a saldatura portatile a batteria ricaricabile. Allora, a primo impatto la plastica sembra un po' cheap, un po' leggerino, un po' croccante, niente di speciale. Però, tenendo premuto il tasto laterale, si accendono questi led. Qua sopra indica la potenza che stiamo utilizzando, in questo caso l'ho impostata a 5, può arrivare fino a 11. Qua può essere manuale o automatico e qua si vede il livello della carica. Ok, per saldare basta semplicemente appoggiare i due elettrodi sulla lamina in nickel che viene fornita in dotazione, cioè un bel matassino. E praticamente cosa facciamo? Noi dobbiamo solo tenere appoggiato. Adesso vi faccio vedere. Ok, io ho già fatto delle prove, basta semplicemente tenere appoggiata la lamina sopra la batteria e fare contatto. In questo caso, come potete vedere, ha già puntato la lamina sul fondo della batteria. E' uno spettacolo. Usata correttamente, è molto molto comoda e funzionale. Direi che il prodotto fa esattamente quello che deve fare.